Ciao ragazzi, in questo video studiamo il teorema di permanenza del segno e ne vediamo in particolare la dimostrazione. L'enunciato del teorema è questo. Consideriamo una funzione f definita su un certo dominio d contenuto nei reali a valori nei reali e consideriamo inoltre x con 0 punto di accumulazione del dominio d, taliché esista il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale a L. L deve essere un valore positivo. Allora, in questo caso esiste un delta maggiore di 0 tale che f di x è maggiore di 0 per ogni x appartenente all'intervallo aperto x con 0 meno delta x con 0 più delta, intersecato ovviamente con il dominio. Eventualmente chiediamo che x sia diverso da x con 0. Praticamente questo teorema ci dice che se esiste positivo il limite per x che tende a x con 0 di una certa funzione, allora esiste un intervallo centrato in x con 0 in cui la funzione mantiene lo stesso segno, cioè è positiva. Prima di vedere la dimostrazione di questo importante teorema facciamo alcune osservazioni. Per prima cosa osserviamo che nell'enunciato non è richiesta la continuità della funzione f. Infatti è sufficiente richiedere l'esistenza del limite. Il teorema infatti continua a valere anche nel caso di funzioni che presentano una discontinuità di terza specie nel punto x con 0, come vedete qui rappresentato. In generale, nel caso in cui la funzione sia continua, abbiamo anche che il valore della funzione f di x con 0 è maggiore di 0. Osserviamo poi che l'enunciato vale anche nel caso di limite destro, cioè per il limite per x che tende a x con 0 più di f di x uguale a l, ma in questo caso dobbiamo andare a considerare come intervallo l'intervallo x con 0, x con 0 più delta, come vedete qui in figura. Analogamente funziona anche nel caso di limite sinistro, quindi per il limite per x che tende a x con 0 meno di f di x uguale a l. Chiaramente in questo caso andiamo a considerare come intervallo l'intervallo x con 0 meno delta x con 0, come vedete in figura. Vale anche un risultato analogo nel caso in cui l sia un valore negativo, cioè quando esiste il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale a l minore di 0. In questo caso il teorema di permanenza del segno ci dice che f di x sarà minore di 0 per ogni x appartenente all'intervallo x con 0 meno delta x con 0 più delta, chiaramente intersecato con il dominio della funzione. La dimostrazione del caso l minore di 0 è del tutto simile alla dimostrazione che vedremo nel caso l positivo. Osservate infine che il teorema di permanenza del segno non ha senso nel caso in cui l sia uguale a 0. Il teorema invece vale anche nei casi in cui il limite per x che tende a x con 0 della funzione f di x sia uguale a più infinito oppure meno infinito. E anche nei casi in cui andiamo a svolgere il limite verso infinito, cioè per il limite per x che tende a più infinito di f di x uguale a l, oppure per il limite per x che tende a meno infinito di f di x uguale a l. In questi due casi dobbiamo però andare a riscrivere meglio l'enunciato e, ad esempio, nel caso in cui il limite sia verso più infinito con un valore l positivo, andremo a dire che esiste un n tale che f di x è maggiore di 0 per ogni x maggiore di n. Andiamo quindi sostanzialmente a riprendere la definizione di limite verso infinito. Passiamo quindi alla dimostrazione del teorema, partendo dalla sua ipotesi principale, cioè l'esistenza del limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale a l, con l valore positivo. Per definizione di limite, sappiamo che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che il valore assoluto di f di x meno l è minore di epsilon se il valore assoluto di x meno x con 0 è minore di delta, con x appartenente al dominio. Esplicitiamo allora la scrittura del valore assoluto del valore assoluto in questo modo. Meno epsilon è minore di f di x meno l minore di epsilon. Portando poi l dall'altra parte dei segni minore, ritroviamo che l meno epsilon deve essere minore di f di x minore di l più epsilon. Andiamo allora a scegliere come epsilon il valore l mezzi. Sappiamo allora che esiste un certo delta maggiore di 0 tale che deve valere questa rete di disuguaglianze con epsilon uguale a l mezzi, cioè l meno l mezzi minore di f di x minore di l più l mezzi, nel caso in cui la x sia tale che il valore assoluto di x meno x con 0 è minore di delta. Stiamo quindi dicendo che quando x dista meno di delta da x con 0, allora il valore della funzione f di x deve appartenere a questo intervallo, l meno l mezzi fino a l più l mezzi. Ora, svolgendo questi due semplici conti, abbiamo che f di x deve essere compresa fra l mezzi e tre mezzi l. Ricordiamoci però che l è maggiore di 0 e quindi il valore della funzione f di x deve essere maggiore di 0, quando x appartiene all'intervallo x con 0 meno delta x con 0 più delta, intersecato al dominio della funzione, richiedendo eventualmente che x sia diverso da x con 0. Questo è proprio l'enunciato che volevamo dimostrare. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a comprendere con più precisione il teorema di permanenza del segno. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!